Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione delle monete blu della settimana 7. Nel video non ci sono, ma la posizione è quella corretta, perché le monete si attiveranno automaticamente dalle 15 di questo giovedì. La prima moneta si trova in questa casa, sicuramente ci sarete andati tantissime volte perché c'è un forziere sul balcone, vedete? Non potete assolutamente sbagliarvi, è questa casa qui. Voi entrate, appena entrate distruggete questo e comparirà la prima moneta blu. La seconda moneta blu della settimana si trova praticamente qua, quindi mi sposto da siepi a sabbie sudate. Quindi dovete praticamente arrivare dove c'è il vicolo, se non mi sbaglio è questo, adesso vediamo, dove c'è anche una lavanderia. Ma il vicolo dovrebbe essere questo, no, ok, è più avanti di qua, mi sono sbagliato, scusate. Dove c'è la lavanderia c'è un vicolo, eccolo, vedete? Qui c'è la lavanderia, adesso vi mostro la posizione esatta, vedete? Questa è la seconda moneta. Qui entrate nel vicolo, girate subito, distruggete questo gnomo da giardino e comparirà la seconda moneta blu. La terza e ultima moneta blu della settimana si trova al Cinema Drive-In, qui praticamente. È una località che probabilmente conoscete molto bene se ci atterrate spesso per fare lot. La moneta blu in questione si trova praticamente qua. Dovete semplicemente distruggere questo oggetto. Lo distruggete e vi prendete l'ultima moneta blu della settimana 7.